L'11 ottobre 2020 è uno di quei giorni che sono destinati a rimanere nella storia della Calceneco 1912 che torna a vincere il derby al Senigallia di Como come non accadeva dal 1997 dal 30 novembre 1997 lo fa con un risultato robante un 3 a 0 esterno fermato dalla doppietta di Riccardo Capogna uno dei reduci dalla grande cavalcata da Serie D e una rete di Dudu Magni sempre propiziata dal bomber blu celeste andiamo in cronaca minuto numero 10 Diocolano dalla bandierina Kautz riesce a andare bene a impattare il pallone che non si perde molto lontano alla sinistra della porta difesa dal portiere di casa il Como si fa rivedere si fa vedere al tredicesimo palla e mezzo tentativo di schema che però decisamente non riesce al ventiduesimo l'eco passa Capogna viene puntato da Crescenzi fa una gran giocata cross in mezzo svirgolata di Toninelli che disputerà una partita disastrosa e Dudu Magni all'alba del minuto numero 23 trova l'argomento giusto per bucare la porta di casa e portare in vantaggio i blu celesti rivediamo la pessima giocata di Toninelli che l'apparecchia proprio sulla testa del 10 ospite e gli dà modo di poter trovare la via del gol al ventinovesimo però l'eco raddoppia cross dalla sinistra i capoferri molto alto lungo Nesta fa una giocata incredibile Capogna sceglie il modo migliore il modo più esteticamente delizioso per regalare il 2 a 0 i suoi anche poi va a provocare i tifosi casa oggi in 500 alla Sinigaglia ecco qua Capogna che sfrutta al meglio l'assist di Gianmarconesta e tutto solo Beffen, Devin Moley fa Kinn al 32esimo il Como avrebbe obiettivamente diritto a un calcio di rigore che invece non arriva per un tocco di mano di Marzoratti che è netto mano destra ci starebbe il calcio di rigore nulla da dire non fischia però Cudini di fermo 44esimo ancora come in avanti cross dalla destra che però si perde decisamente fuori dalla porta difesa a Bertinato 51esimo l'eco triplica cross al centro di Giudici Capogna di testa Facchin la colpisce in modo goffissimo e la mette in fondo al sacco dando a Capogna la possibilità di festeggiare nuovamente sotto quello che sarebbe il settore aspiti del Senigale veramente molto male la difesa del Como molto 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 male in questo caso il portiere di casa Facchin al minuto numero 53 dalla sinistra cross al centro batti e ribatti poi dall'inno la conclusione di Bellomo che si perde di mezzo metro alla destra della porta difesa da Bertinato minuto numero 65 Gabrielloni non si sa come riesce a centrare la traversa a porta praticamente quasi sguarnita da veramente pochissimi metri con lo stinco della gamba destra dopo una gran giocata liberarsi dalla pressione di Capoferri Gabrielloni oggi non si è confermato bomber che invece solitamente è implaccabile sotto porta 67esimo dentro l'area di rigore dell'ecco però c'è un tocco di mano su questa bella parata di Bertinato 69esimo onesta cross al centro Giudici non riesce a mettere in porta serve però Magni e Facchin in questo caso fa veramente un miracolo sulla 10 ospite 73esimo Gabrielloni murato da Bertinato molto attento e ben posizionato poi c'è una nuova giocata che porta Ferrari sotto porta con la punta del piede destro Ferrari che era il debutto non trova il fondo della rete minuto numero 91 Bertinato chiude così le velletà con questa parata centrale sul compito in testa di Gabrielloni l'ecco che vince e l'ecco che si prepara a far festa giocatori ricevuti con più di un'ovazione dei tifosi che li avevano salutati prima di questa vittoriosa partenza